Qualità dei prodotti e self-service per i bambini. Sono queste alcune delle novità introdotte dal piano di riorganizzazione delle mense scolastiche. Sarà quindi possibile richiedere più primo, più secondo, più contorno a seconda dei propri gusti. Ad illustrare l'intero progetto è stato l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin alla Corridoni di Fano, una delle quattro scuole elementari a tempo pieno, assieme alla Montesi di Sant'Orso, alla Decioraggi di Ponte Metauro e alla Fabio Tombari di Bellocchi che usufruisce del servizio di refezione. Lunedì quindi abbiamo presentato i saloni completamente ristrutturati e riqualificati del Corridoni che è stato interessato anche da delle azioni di riqualificazione della cucina oltre all'acquisto di nuove attrezzature perché tra l'altro l'organizzazione cambia. Ci sarà il self-service, ci saranno i contenitori per la differenziata per i bambini, umido, secco, proprio perché vogliamo fare in modo che il momento della refezione non sia una pausa dell'attività didattica ma sia un percorso educativo che continua anche in quel momento con il coinvolgimento e una maggiore autonomia dei bambini. Un'altra novità introdotta è quella dei distributori automatici dell'acqua pubblica presenti in tutte le scuole dove è previsto il servizio di refezione. Sono una serie di novità per noi importanti perché insieme ai prodotti biologici Chilometro Zero, Eco Solidale che abbiamo inserito nella gara d'appalto che ha dato il via poi al nuovo servizio ci sono anche una serie di novità organizzative e logistiche che serviranno a migliorare la qualità di questo servizio e il tema del self-service, del riutilizzo nelle quattro scuole elementari a tempo pieno per noi è un primo passo in questa direzione. Grazie 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 Grazie